Dopo la puntata andata in onda ieri in prima serata, il segreto torna oggi per un nuovo appuntamento con le vicende di Puente e Viejo, salvato da Aurora e Gonzalo da una tragedia immane. Intanto, vedremo che sta per arrivare a conclusione la vicenda che vede protagonisti Fulgencio e Bernarda, mentre potrebbe arrivare una sorpresa per Mariana. Se volete saperne di più, non vi resta che leggere le anticipazioni dell'episodio, con rado forza lo sbarramento dei militari per andare a cercare Aurora. Una volta tornata sana e salva Iaral, Aurora capisce che una medicina che Rosario prendeva per lo stomaco interferisce con l'antidoto e quindi salverà la donna con una cura appropriata. Fulgencio decide di scappare dalla villa assieme a Bernarda, ma la donna non ha intenzione di tornare a fare una vita misera. Alfonso e Deloris vedono Mariana molto triste e così decidono di rintracciare Nicolas. Lo troveranno?